Arte e tradizioni nella piana di La Messia Terme, il vino, è il titolo di un convegno organizzato dalle associazioni Arte e Antichità Passato Prossimo, più conosciuta come Galleria Spazio Arte 57, ed è un anturium per Francesco, che si è svolto presso la concattedrale di San Benedetto. Il tema del convegno ha riguardato appunto le nostre tradizioni, dove per nostre si intendono quelle della piana del Lametino e delle aree vicine, con le infinite contaminazioni che sono giunte da diverse parti del mondo. Si è partiti dal vino per trattare poi altri argomenti inerenti ai settori dell'agricoltura, passate e presente, del Lametino. Relativamente al vino si è parlato della produzione e della forte tradizione che è andata negli anni sempre più scemando, ricordando anche che vi erano due cantine sociali a San Biase, quella della Prunia e la Bruzia. È stata occasione da parte degli organizzatori di rimarcare la necessità di uno spazio d'arte contemporanea legata alle nostre tradizioni, e proprio l'ex cantina sociale di San Biase poteva e potrebbe rappresentare il luogo ideale. Esortando l'amministrazione comunale a ripristinare questi luoghi della tradizione lametina, Rossella Cerra, in rappresentanza delle associazioni organizzatrici dell'evento, ha sottolineato la presenza negli stessi luoghi di macchinari di pre-storia industriale, che potrebbero rappresentare non solo la storia passata del territorio, ma anche un futuro di cultura artistica calato in un'atmosfera di suggestioni. I lavori, moderati dal reporter Massimo Mercuri, si sono aperti con i saluti del parro con Don Domenico Cicione, collegato in video, ed il sindaco di La Mezzia Terme, Paolo Mascaro, presente in sala, che ha risposto già in loco positivamente alle istanze e idee pervenute dai relatori. Il dottore agronomo Pietro Andricciola, enologo e già dirigente alla Regione Calabria, ha disquisito sui vitigni che hanno caratterizzato in passato i tre centri che ora formano la città di La Mezzia Terme, Nicastro, San Bias e Santofemia. Al rafforzamento delle notizie storiche fornite da Andricciola, Salvatore Cittadino, imprenditore agricole e già presidente Covila, Cooperative Viticoltori Lametini, ha aggiunto ulteriori particolari storici e criticità moderne della vita e minicoltura e dell'agricoltura lametina. Tra i relatori intervenuti anche gli architetti Pasquale Iacon Antonio e Fabio Lamanno, dello studio Istimo Architetture, i quali hanno illustrato un progetto di recupero della cantina sociale di San Biase. A conclusione, l'assessore comunale Luisa Vaccaro ha esaltato l'idea artistica di recupero della storia lametina, promettendo di contribuire attivamente all'idea museale proposta dagli ideatori del convegno.